cari amici appassionati di wrestling cari amici di dimax.it benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra video rubrica settimanale a bordo ring oggi voglio fare gli auguri ad andre the giant al compianto all'indimenticato ed indimenticabile andre the giant che in questi giorni appunto avrebbe compiuto gli anni di lui si è parlato anche in questa rubrica in più e più salse oggi però vorrei porre la vostra attenzione sull'andre the giant vincitore anzi più rivincitore di tantissime battle royale compresa una memorabile tenutasi in quella di breastmania 2 e proprio la sua propensione ad essere un formidabile atleta per quanto riguarda la battle royale e le battle royale in generale ha portato la wwe nel 2014 ad indire un trofeo in sua memoria che viene assegnato ogni anno nel weekend di breastmania una battle royale dedicata alla memoria di andre the giant e quindi cogliamo gli auguri per ricordarlo ancora una volta e soprattutto in questa occasione proprio per i suoi grandi successi ottenuti nelle battle royale del mondo del breast e della wwe in particolare